Dopo il danno, la beffa. Dopo la perdita dei risparmi di tutta una vita, gli azionisti della Popolare di Vicenza si sono visti negare anche la consegna dei documenti necessari per intraprendere un'azione legale. Ora però la magistratura ha dato loro ragione. Un avvocato padovano infatti ha chiesto e ottenuto il risarcimento delle spese legali e la consegna dei documenti di un azionista che aveva investito 100.000 euro in azioni della Banca Vicentina.